Il ringraziamento alla pattuglia dei senza paura che nonostante influenze qui si tratta di un argomento molto importante che però sembra che interessi meno di tante altre storielle quotidiane ed è un argomento di grande soddisfazione perché la procedura piano plurinare di riequilibrio è una cosa che ha impegnato gli uffici, il segretario generale, il dirigente del settore, ovviamente l'assessore e una pattuglia che si è veramente sacrificata in parola grossa ma che ha dato un impegno grossissimo in questi giorni per arrivare a questo documento che poi l'assessore Pizzo vi illustrerà nel dettaglio. Abbiamo raggiunto l'obiettivo per il quale abbiamo cominciato a lavorare, nel senso che abbiamo un bilancio risanato e trasparente. È terminato quindi il risanamento nonostante le sorprese che ogni tanto continuiamo ad avere e riguardano antiche vicende finanziarie del comune. Comunque avendo terminato il risanamento da oggi in poi possiamo, chiunque sarà chiamato da giugno in poi a occuparsi del comune, potrà finalmente dal 26 di questo mese poi finire e terminare di parlare di problemi di minaccio e parlare di futuro perché questo schema consentirà di lavorare senza più i condizionamenti, l'assillo del bilancio consultivo preventivo ma parlando di futuro, parlando di serietà e parlando probabilmente anche di sogni. È come se noi avessimo contratto un mutuo, quindi mutui se ne sono contratti tantissimi, ogni volta che abbiamo sollevato questo problema, sì ma erano investimenti, vabbè questa poi, te ricordi, sono 7 milioni, sono investimenti. Noi abbiamo fatto una specie di mutuo sul futuro per consentire a chiunque lavorerà in questo comune negli anni e negli decenni a venire di avere una situazione chiara e di avere un rispetto per le casse comunali e quindi per le risorse dei cittadini diverso da quello che è stato finora. Mi permetto di citare la mia campagna elettorale di cinque anni fa, quando dicevo che avrei avuto piacere di vincere anche per consentire ai giovani del PD e dell'opposizione in generale di rifarsi una strategia, oltre che a un sentimento diverso, per poter tornare a un giorno, per poter dare il loro contributo a questa città avendo di fronte una situazione risanata, una situazione rinnovata con un metodo diverso e abbiamo esattamente fatto questo. I giovani del PD si vedono e non si vedono, però comunque l'obiettivo e il nostro scopo era questo. Ci siamo arrivati, il periodo non era sicuramente il migliore dal punto di vista della congiuntura economica internazionale, ma ci siamo riusciti. La storia, non rifaccio la storia perché la storia la fanno al modo loro, coloro che hanno già cominciato da tempo a fare campagne elettorali premature, ma non ci tornerò adesso sopra. Quello che abbiamo trovato e che continuiamo a trovare, purtroppo, nelle finanze del Comune è una cosa orrenda. Abbiamo fatto delle cose che sono state dolorose, ma che sono state utili. Abbiamo fatto probabilmente anche delle cose non esattamente accettabili, ma mi viene da ridere quando leggo che un candidato alle primarie sbandiera il patto con Roma come una cosa che dovrà fare nei prossimi, ma rimango stupefatto. Le sorprese le abbiamo avute, ma basta parlare di queste cose, ne parleremo probabilmente se faremo una campagna elettorale violenta. Io spero che questo non succeda. La soddisfazione, ripeto, è quella di avere dato, lo vedete scritto lì, 2014-2023, un compito serio, un compito che non tiene conto della ricerca del potere e del consenso. Se avessimo voluto il consenso, cinque anni fa avremmo messo in piazza in maniera diversa virtù poche e vizi tanti. Non l'abbiamo fatto, io spesso sono rimproverato per questa mia tolleranza, ma comunque questa era un'idea che avevo all'inizio e che continuo ad avere. Ci siamo concentrati in questo percorso che non è stato facile, ma che finalmente ha una conclusione per la quale vado orgoglioso e parola magari grossa, soddisfatto e soddisfatto soprattutto dell'impegno che insieme all'assessore Romiti e all'assessore Pizzo abbiamo portato avanti negli anni, aiutati dal rigore a volte eccessivo del dirigente del settore e dall'impegno organizzativo eccezionale del segretario generale. Io mi fermo qui, consegno ai posteri questo piano di riequilibrio che spero avrà certamente delle osservazioni anche critiche, ma che è uno sforzo, è il primo sforzo serio che viene fatto in questa città per il suo risanamento. Sono, ripeto, grato a Giorgio Pizzo che appunto ha fatto un lavoro egregio e che prego adesso di entrare nel dettaglio, se possibile, senza il demonio e a disposizione vostra per chiarimenti ulteriori. Grazie. Una premessa. Questo piano era approvato dal Consiglio Comunale martedì prossimo. Io non sarò presente nel Consiglio Comunale perché ho dei problemi familiari e non è che non sarò presente perché non voglio presentare il piano. Ecco qua. Almeno questo, se no, viene fuori chissà che cosa. Allora, partiamo. Ho preparato delle slide, così almeno possono in qualche maniera riassumerci la situazione. Il piano pluriennale di riequilibrio è un documento predisposto per poi essere inviato alla Corte dei Conti e al Ministero dell'Interno che certificheranno la validità del piano e in qualche maniera poi chiederanno un sostanziale rispetto perché trimestralmente poi viene fatto il controllo tra quanto in qualche maniera preventivato dall'amministrazione e quanto a consultivo fatto. Quindi non è una procedura sanzionatoria nei confronti del Comune d'Orvieto come qualcuno in questi giorni sta divertendo a dire, ma sarà un controllo maggiore che certificherà passo passo quello che l'amministrazione ha messo in piedi e quello che l'amministrazione farà nei prossimi anni. Lo schema si divide in due parti e è comodo anche per impostarlo, sia i fattori e le cause che hanno determinato lo squilibrio e poi quello che sarà il piano di risaniamento da proporre. Fattori e cause, il disavanzo, naturalmente come sapete tutti e l'abbiamo visto in sede di il bilancio pre-consuntivo 2013, il bilancio del Comune d'Orvieto non mai sta in piedi, cioè ha la possibilità di produrre e generare pareggio. Però dal 2010, quando avevamo chiuso con un disavanzo di 10 milioni e 4, siamo scesi con la chiusura del 2013 a un disavanzo di 5 milioni e 7,90. Questa somma è la parte iniziale con la quale procederemo nel piano di risanamento che dopo vedremo. Quindi in questi 4 anni sono state messe in piedi operazioni che hanno ridotto il disavanzo strutturale di questo Comune del 44%. Andando avanti, che cosa abbiamo trovato? Abbiamo dovuto mettere in piedi, come previsto dal piano, una ricognizione particolare sia dei residui attivi che passivi, ma soprattutto la ricognizione dei debiti fuori bilancio. Abbiamo trovato nell'andare a spulciare i documenti, incarichi illegali, come sapete un processo non dura praticamente un periodo breve, ma hanno durato praticamente anche decennali e ci sono, sono emersi incarichi legali per parcelle da fatturare e fatturate per 991 mila euro e a seguito della delibera del piano l'amministrazione è riuscita a rinegoziare a euro 696 mila euro. Anche questo importo dovrà essere rifinanziato dal piano. Come vedete alcuni incarichi partono addirittura dal 2000. Poi naturalmente primo grado, secondo grado, Cassazione, in qualche maniera nel tempo andiamo avanti. Quindi ci sono anche cause aperte nel 2000 che ancora non trovano praticamente la loro conclusione. Quindi l'amministrazione apposterà anche questo importo per far fronte a queste future parcelle degli avvocati. Come vi dicevo la revisione straordinaria dei residui, cioè i crediti che il Comune vanta nei confronti di soggetti terzi, abbiamo dovuto riporirla per un importo di 2 milioni e 90 mila euro. Cioè abbiamo momentaneamente cancellato dal bilancio 2 milioni e 90 mila euro proprio per rendere ancora maggiormente serio e diciamo in qualche maniera futuribile il bilancio del Comune di Orvieto. Tutto questo porta alla somma che deve essere finanziata. Somma che come vedete i debiti fuori bilancio degli avvocati sono circa 700 mila euro. Di competenza dalla gestione dei residui e dal disavanzo che rimane a fine 2013 dobbiamo finanziare 7 milioni e mezzo circa, il disavanzo in conto capitale ammonta 864 mila euro. La somma di queste tre cifre che fa circa 8 milioni e 9 è quello che deve essere coperto dal piano pluriennale di riequilibrio. Il bilancio 2014. Il bilancio 2014, seguendo la scia del bilancio 2013, è in equilibrio di parte corrente. Quindi ha possibilità di generare valore per abbattere il debito di 9 milioni circa che abbiamo visto. Teoricamente, anzi sono stato sempre dell'idea e rimango dell'idea che l'amministrazione pubblica non debba avere avanzi di bilancio perché se avanzano i soldi significa che non sono stati ben spesi. Ma purtroppo noi dobbiamo far fronte a quelli ben spesi tra virgolette negli anni precedenti. Quindi dovremmo inevitabilmente generare per i prossimi dieci anni avanzi di bilancio per pagare quello che diceva il sindaco, questo mutuo pro futuro. Come siamo arrivati al pareggio e all'avanzo d'amministrazione? Dal 2009 noi abbiamo ereditato 206 dipendenti e circa 8 milioni di euro di costo del personale. Nel 2014 i dipendenti saranno 160 con 4 dirigenti, mentre prima erano 5, e con un debito che scende a 6 milioni 425 mila euro. Anzi, prima erano 5 più 1 più il segretario 6, la slide è tendenzialmente, però insomma siamo scesi di questi importi. Anche sul pagamento degli interessi, non avendo preso mutui per fare opere faraoniche che poi in qualche maniera sono lì, siamo riusciti a ridurre la spesa per interessi, da 1.877.000 del 2009, anche grazie alla chiusura definitiva della causa SWOP RBS, quindi da 1.877.000 siamo scesi a 1.109.000, migliorando questo dato del 41%. Abbiamo ridotto la spesa corrente che nel 2009 era di 27.825.000 a 20.943.000 euro, l'abbiamo ridotto di circa 7 milioni, con un miglioramento del dato del 25%. L'indebitamento dell'ente in questi anni, qualcuno mi chiedeva, diceva, ma avete venduto, avete fatto? L'indebitamento dell'ente si è ridotto di circa 10 milioni di euro. L'ente in questo periodo ha ammortizzato mutui per 10 milioni, dobbiamo fare ancora molto perché dovremmo arrivare per avere un dato importante oltre il 2023 perché sono tutti mutui a 30 anni accesi dalle precedenti amministrazioni e quindi praticamente dobbiamo andare almeno a 15 anni da oggi per avere un sostanziale miglioramento di quel dato, però così è la situazione. Ecco qua, noi avevamo preso il Comune, chiudevamo l'esercizio 2009 con un disavanzo di amministrazione di 7 milioni e 3 di parte corrente. Nel 2014, quindi quest'anno, lo chiuderemo con un avanzo di circa 360 mila euro che necessiteranno per pagare il piano, ma la cosa diciamo che in qualche maniera ci ha risollevato è il fatto che a fine piano l'avanzo di amministrazione sarà oltre un milione di euro. Queste somme potranno essere utilizzate nel futuro anche per programmare eventuali politiche di sviluppo della città. Quindi ci siamo tenuti queste somme per programmare il piano di sviluppo della città. Perché? Perché momentaneamente noi intendiamo, per quanto è possibile accantonarle ad un fondo rischi per le eventuali passività future, proprio per non trovarci di fronte a delle sentenze dove il Comune in qualche maniera perda in giudizio e quindi deve trovare a pagare quelle somme che non ha disponibilità. Quindi faremo, come vedremo nel piano, degli accantonamenti futuro per passività future, quindi accantonamenti prudenziali. E questo è il piano. Il piano decennale che vede una copertura della prima rata per 700 mila euro, poi nel 2015 ripianeremo un milione di euro, fino ad arrivare al 2023 dove ripianeremo praticamente l'ultima rata con un milione di euro. La sommatoria di queste somme è circa 9 milioni di euro. Quello che va sottolineato, sempre per darvi un'idea di come siamo riusciti ad ottenere un bilancio veramente stabile, è il fatto che mentre nel 2011 e nel 2012 avevamo praticamente delle entrate straordinarie per un milione e sei circa, quindi nel 2011 e nel 2012 il bilancio ha beneficiato di entrate straordinarie, nel 2013 le entrate straordinarie sono finite, cioè sono state tanto entrate straordinarie quanto uscite straordinarie. Quindi non c'è stato un finanziamento delle entrate straordinarie con la spesa. Quindi questo è a maggior ragione dimostra l'eccezionalità di aver riportato il bilancio praticamente a una situazione di pareggio. E questo è quello che c'eravamo posti e è quello che volevamo raggiungere, quello che abbiamo fatto. Va aggiunto a questo, quindi questo sarà il piano proposto al Consiglio Comunale, va aggiunto a questo che il prossimo Consiglio Comunale dovrà deliberare su altri due argomenti importanti, li volevo accennare in maniera tale che anche lì non ci fossero dubbi. Uno è sulla rata che diamo a Tema, l'amministrazione naturalmente finanzia l'associazione Tema con soldi pubblici, per quest'anno Tema ha chiesto una sospensione della rata del mutuo che ha acceso per finanziare, aveva finanziato un milione di euro di debiti che si erano trovati nel tempo, attraverso un mutuo. Quest'anno abbiamo chiesto all'ente creditizio di spostare quella rata, quindi non avremmo nel bilancio nostro la rata di 120.000 euro che dobbiamo dare a Tema, ma che naturalmente restitueremo col bilancio 2015. E poi ci sarà un'altra delibera, sindaco, che è quella dell'ex ospedale, cioè porteremo in Consiglio la rinuncia dell'ente comune all'acquisto dell'ex ospedale in Piazza Duomo. Perché? Noi, sapete tutti, abbiamo in piedi un PUVAT insieme al Ministero dei Beni Culturali e al Ministero delle Finanze attraverso il demanio dello Stato. Quel PUVAT sta andando avanti per la valorizzazione della caserma Piave attraverso il passaggio a un campus. In quel PUVAT noi abbiamo più volte chiesto alla Regione e ad Asle, che è proprietaria del bene, di inserire il bene ex ospedale che potrebbe diventare oggetto del progetto di More d'Italia. Quindi non avendo anche per vincoli di bilancio e per vincoli normativi la possibilità più il Comune di Orvieto, come aveva nel 2009, di acquistare quell'immobile, faremo una delibera dove diremmo chiaramente che non intendiamo, che non abbiamo possibilità di acquistare quell'immobile. Questa è un'altra novità che insomma passerà in Consiglio Comunale e questa è la sintesi di tutto. Quindi più o meno siamo a questa situazione. Non so se il sindaco sia altro da aggiungere. Lo squilibrio arriva a circa 8 milioni e 9, più o meno, se torniamo indietro che lo vediamo e sommiamo le somme, siamo 7 e 4, 8, 8 e 8, 8 e 9 circa. Lo squilibrio è 5 e 3 perché, come avete visto nei precedenti comunicati, il 2013 chiude con un avanzo di amministrazione di un milione e mezzo. Il 2013, non c'è qui sopra, il 2013 chiude con un avanzo di, diciamo noi avevamo 7 milioni 285 mila euro di deficit al 31 dicembre 2012. Un milione e mezzo circa di avanzo di amministrazione nel 2013. Qualcuno giustamente su internet ha detto, dice, non c'è da farci il bello di aver chiuso il bilancio con un avanzo di un milione e mezzo. È vero, ma è vero anche che dobbiamo finanziare i 7 milioni e mezzo, se no nessuno avrebbe chiuso un avanzo di un milione e mezzo. Stiamo facendo gli sforzi enormi proprio per cercare di chiuderci quella partita lì. Sono andati in pensione e alcuni erano contratti a tempo di determinato o LSU che erano sul bilancio del Comune Orvieto e che naturalmente il Comune non ha riconfermato. Quindi abbiamo chiuso tutti quei contratti a tempo che erano presenti nel Comune e poi abbiamo agevolato i pensionamenti. La spesa per i dipendenti continua a ridursi nel tempo, abbiamo ipotizzato in base alla normativa una riassunzione pari al 40% delle risorse che vanno in pensione. Cioè il piano non è fatto, dice, vabbè tutti i dipendenti che vanno via vanno via, quindi ci ritroviamo. Ogni 10 dipendenti che vanno in pensione l'amministrazione nel proseguo potrà assumerne 4, come è previsto poi dalla norma. In questa voce c'è di tutto, di più. Ci sono degli affitti che l'amministrazione doveva prendere e che probabilmente non prenderà perché le società sono fallite. Ci sono dei crediti anche verso utenti che non hanno mai pagato determinati servizi ma che non avendo ripagati nel 2000 sono spariti. Penso, diciamo, vi ricordate, noi siamo passati per esempio con le mense scolastiche a un prepagato, cioè oggi tu paghi e poi soffruisci del servizio. Quel tipo di operazione, quando diciamo prima che arrivassimo noi, le mense venivano pagate a distanza di tre mesi da quando si soffruiva. L'amministrazione precedente con la sua visione aveva, diciamo, come visione l'idea che chi non pagava non pagava non perché voleva evadere ma non pagava perché non riusciva ad avere i soldi per pagare e quindi non ha mai fatto una lotta sul recupero di quelle mense. Nel tempo questi crediti sono rimasti lì ma oggi andare a chiedere a una famiglia che non c'è neanche più 50 euro di un debito del 2004 per le mense non c'è né modo né modalità e sarebbe eccessivamente onerosa. Dal punto di vista dei servizi del personale, questi 10 anni, diciamo, non diamo? Sul personale abbiamo fatto la trattativa all'altro giorno, non siamo intervenuti a livello di premi, gestioni e quant'altro, ne ho resta ordinario. Interverremo con quello che sono gli strumenti, cioè i pensionamenti verranno stituiti non del tutto ma verranno reintegrati al 40%. È logico che andando in pensione i dipendenti mano a mano dovrà essere probabilmente rivista dall'amministrazione anche la politica di alcuni servizi che oggi fornisce direttamente ma sono rimasti più pochi. È tutto quanto nel bilancio praticamente per intero in base a quello che so i dettami delle trattative sindacali. La retribuzione accessorio dei dipendenti Buonopasso fa parte del tavolo della trattativa con i sindacati e praticamente in questo momento le risorse in qualche maniera ci sono. Avete visto il numero di dipendenti è diminuito nell'arco di 50 persone circa. Stiamo cercando, l'abbiamo lasciato e si riducono mano a mano in pensione. Nuove entrate praticamente sul bilancio, nuove entrate non ci sono grosse cose, abbiamo riparametrato Tasi, Tari come sono uscito col comunicato, Tasi, Tari e Imu perché questo è il nome della nuova IUC e praticamente partiremo come è già nel Comune Corbiato, partiremo con l'imposto di soggiorno. È l'unica nuova entrata che ci serve. Partirà l'imposto di soggiorno. Quindi queste sono le nuove entrate, altre cose non ci sono. Ah no, abbiamo una nuova entrata per lo sfruttamento, ma è poca somma, per lo sfruttamento del gas del primo calanco. Il primo calanco c'è una convenzione comune, provincia e gestore, praticamente c'è un agio per il Comune d'Orvieto per lo sfruttamento di quel gas. Poca roba. Però insomma fa parte della politica che in questi anni ci siamo dati. Va sottolineato, come diceva Alcino, se noi a settembre 2009 avessimo mollato e non ci fossimo fatti carico negli anni di ingogliarci 15 milioni di euro, perché è questo quello che abbiamo ingogliato negli anni, cioè noi in quattro anni abbiamo fatto cinque bilanci, perché abbiamo dovuto fare bilanci anche a 14 mesi per ingolovare un po' tutto quello che c'era. Cioè se noi avessimo mollato lì, con un gap tra entrate e uscite di 5 milioni di euro, chiunque che non fosse stato di questa città avrebbe preso o tagliato totalmente. È quello che abbiamo sempre detto. Noi siamo riusciti a razionalizzare. Logicamente i cittadini hanno fatto la loro parte, ma siamo anche noi cittadini di questo comune. Però siamo riusciti a salvaguardare tutti i servizi, siamo riusciti a salvaguardare e aumentare i posti degli eseri nido, siamo riusciti a salvaguardare il sociale, siamo riusciti a salvaguardare tutti i servizi che il comune offriva, cercando di razionalizzarli e migliorarli. È logico, una parte di questo rientro è gravato sulle tasche dei cittadini di Orvieto. Questo è scontato. Questo è scontato però, ecco, se fossimo stati in un'altra situazione, un altro ente, avremmo tagliato, adesso che vedo l'assessore Luciani, avremmo tagliato sulla manutenzione, per dirvi, e mentre noi oggi i servizi sulle buche del comune di Orvieto non ci saranno in nessuna televisione, perché non ci sono, la provincia non riesce a tappare neanche le buche che c'è sulla strada. Proprio perché siamo riusciti a fare questo. Cioè un commissario avrebbe tagliato le manutenzioni, avrebbe lasciato le strade distrutte e noi non l'abbiamo fatto. Immaginatevi avere una gestione commissariale durante l'evento dell'alluvione. Questo bisogna che lo sappiamo tutti. Cioè non si può dire che sarebbe stato meglio il commissario. No, perché questa prospettiva alla città non gliel'avrebbe mai data. Avrebbe tagliato tutto, avrebbe detto vediamo che cosa possiamo fare. No, hanno un milione di euro speso per gli avvocati. Sì, circa 696. Allora lì ci sono, lì ci sono, ok, lì ci sono, sono parcelle, quelli del 696, inglobano parcelle di avvocati già emesse e parcelli potenziali di avvocati in, diciamo, di procedure in corso. Per dirvi, inglobano la parcella dell'avvocato che ancora non è stata emessa, perché della causa che abbiamo in corso con i rifiuti di Napoli, per il recupero dei rifiuti di Napoli nel 2008, ma lì fino a che non si chiude l'avvocato non emette parcella. Per ora ci ha fatto una sorta di fattura pro forma per dirci, questo è la mia parcella in maniera tale che l'abbiamo inserita. Ci sono anche parcelle di cause che abbiamo perso. Per dirvi, c'è una parcella ancora della causa COFATEC che abbiamo perso a Niorsono. Però c'è, quindi c'è quello. Anche perché, per esempio, ci sono anche parcelle di cause che abbiamo vinto, ad esempio la situazione del complanare, il ricorso che fece il Comune insieme alla ditta Ceprini sul secondo ricorrente al TAR, lì abbiamo vinto, ma siamo stati condannati alla compensazione delle spese, quindi abbiamo dovuto comunque pagare, benché abbiamo vinto. Non ci sono le parcelle degli avvocati degli SWOP, perché c'è un regolare contratto con loro e sono state regolarmente pagate. E vengono regolarmente pagate quando poi vanno avanti con le cause. quindi ecco, questa è più o meno la nostra situazione. Monica? I numeri sono sempre attipatici. Questo è quanto. Grazie a tutti. Ci vediamo al Consiglio Comunale. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.